I sei casi positivi nella città di Agropoli restano circoscritti. Questa settimana sono iniziati i tamponi di verifica sulle persone contagiate da covid-19 per verificare lo stato di guarigione dal virus. A dichiararlo ai nostri microfoni il sindaco Adamo Coppola. Dobbiamo convivere con questo tipo di realtà, sottolinea il sindaco, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Chiudere nuovamente le nostre città vorrebbe dire un colpo duro all'economia. Il secondo tampone è quello finale, definitivo, che chiude questa ulteriore pagina che credo abbiamo superato rapidamente con uno slancio importante. Ancora una volta la città ha superato un esame che in ogni caso era necessario interpretarlo nel modo giusto, così abbiamo fatto. Naturalmente tutti mi chiedono che succederà a settembre, ottobre, eccetera. Io quello che onestamente penso che noi non possiamo più fermarci, dobbiamo convivere con questo tipo di realtà. Fermarci ancora per dei mesi significherebbe veramente dare un colpo di grazia definitiva alla nostra economia, non possiamo farlo. Quindi dobbiamo imparare a coesistere con queste nuove tipologie di vita, la mascherina, il distanziamento. Fin quando non dovremo un vaccino dobbiamo andare avanti così, in questo modo non saremo mai nelle condizioni di alimentare un livello tale da dover chiudere nuovamente le nostre città, perché serve veramente, ripeto, un passo gravissimo e noi ci auguriamo che i cittadini abbiano veramente capito questo e si applicano in queste poche regole nella maniera migliore.